Che cosa hai fatto? Che era quella mossa? Ti avevo visto un attimo inclinato strano prima Cammina mentre guardi in alto Fa sempre ridere Stavo per dire che sta zona iniziale sembra un bel mix tra poolrooms e livello 188 E poi mi sono ricordato che infatti prima di arrivare qua si siamo buttati dal tetto del 188 Posso andare di qua? No eh? No Se sentite la voce un po' diversa è perché sto usando un altro microfono quindi non vi preoccupate Ale Fabius ha indossato le cuffie un applauso Sì sono uno youtuber professionista E non sentirò più l'eco nelle registrazioni del gioco Siamo tornati con i nuovi livelli dell'update 4 e se oggi tutto va bene dovremo riuscire a finire tutto ciò che manca del gioco Esattamente Salvo eventuali nuovi aggiornamenti questo sarà l'ultima l'ultimo video Ora siamo arrivati a le dark poolrooms che hanno i virus dentro come quelle di fandom Guarda che bello ci si vede proprio la Che galleggia dentro Quella è una parola fidati Quella roba ti infetterà se ci cammini dentro Vogliamo riprovarlo come alla fine dell'ultimo episodio Signore e signori Challenge di MrBeast Mi farò il bagno dentro l'acqua infettata dai virus L'ultimo che esce vince un milione di dollari 3 2 1 Via I don't feel so good Non lo puoi fare No Sono vivo Non voglio più essere vivo È stato orribile Ti ho visto cadere Svenire Ok adesso seri Allora dobbiamo prendere il canoppo Quella roba ti infetterà se ci entri dentro Beh l'avevamo abbastanza capito sai Ora dobbiamo fare come quei footage dove hanno rappresentato le poolrooms come un parco acquatico Guarda posso entrare anch'io o What? Io devo rimanere qua allora Ok che se deve fare Funziona funziona Non mi dire che è un altro tipo livello puzzle Ho un cattivo presentimento che su queste scale ci possiamo arrampicare sai? Sicuro Ci possiamo arrampicare? Cos'è? Ah ho capito Ah non ho capito Neanche io Qui c'è una rampa che va giù Vuoi provare a vedere? Andiamo avanti senza vediamo che troviamo Perché mi ha bloccato? Oh Ah E I Ah E I O U Affanculo ci vai tu Ok tagliala questa No non lo farò E domanda da un milione di dollari Come 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 Intelligentissimo il design del del mettere il muro invisibile e basta Si Oh Ah Non so se però abbiamo tipo il tempo ma non credo no 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 non abbiamo il tempo Oh mio dio Aspetta Voglio fare una cosa all'Indiana Jones Ciao Leonardo vado senza di te Oh no Intruso Scafista Pievolo d'acqua Oddio no che figata Yeee Oddio Oh Ecco la non si risale Eh no Cosa c'è di qua? C'è un'altra scala qua sopra Tante altre scale qua sopra Oh mio dio Vai Vieni Qui c'è È Abbastanza aperto Oh no Dimmi che non è a scelta di te No Che schifo Oh Sono sceso In una cazzina Aspetta Ah forse erano tutti giusti Può essere sì Ok Siamo finiti nelle profondità delle dark Nelle vere dark pool rooms Scivolo E questa è sicuro acqua contaminata E l'ambience si è fatta molto più creepy Troppo più creepy E qui ci sono i No è sicura È sicura l'acqua qui Col capo che è sicura Che cazzo è quello? E invece sale No invece no Io mi sono chiuso qua nell'acqua Non è contaminata Quindi è Ecco le scale È tornato il clamp Mi ha preso un colpo Dove va? Perché è ubriaco ragazzi È ubriaco No a parte gli scherzi È bugato veramente Forse se esco fuori Mi vede Ah forse stava cercando di andare da me Ma non poteva perché sono qua su Si stava impappinando tra noi due Sono qua sopra Ok C'è un cartello Girale per riempire la La tanica Questa non è usabile Oh mio dio Ok dobbiamo trovare le valvole Sì Dove vai? Ehm Mazzo Che succede? Sento rumori terribili Ah stai qua Io sono andato l'altra strada Ok io non mi fido Andare Dio santo Tranquillo sono io Oh no È il labirinto del primo episodio Della crazy map No Però subacchio A parte ti ricordo che puoi sprintare In acqua Oh Ma va velocissimo Già In una velocità di Sono ritornato all'inizio Sono tornato Sono andato a una parte Vieni qua vieni qua Sono tornato all'inizio È la crazy map veramente Vieni qua dove sto io Ma sto negando Oh Si devi premere spazio Per rimanere a galla Valvola Dove si sale? Qui Stavo baggando Dovessimo morire Ce le salva le valvole Immagino Vero? Pam 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 Dillo più forte davvero Che è? Livello 23? O non lo so Forse è correlato comunque alle pull Valvola C'è un'altra laggiù? Ci vado un attimo Ok non ci hanno detto quante sono le valvole Oh Lo santo Mi ha preso scappa Sta venendo da me No Fai finire di girare Aspetta L'animazione è stufa Ti ha preso l'entrare lì dentro? No me lo so ritrovato dietro Da sini Ecco da lì è uscito Oh mio dio Comunque si Sembra un miscuglio di vari sub level Queste sono le dry pull rooms O qualcosa del genere Tipo le pull rooms Senza acqua Penso lo sento Zitto camion E di qua si va in bocca al mostro No si Ma che Effetto Ah no siamo all'inizio Qua essere E' piena? E' piena E' piena pare piena E l'hai fatto il verso del mostro Dovrebbe averci salvato Ah ma c'erano le torce là sotto Non l'abbiamo manco viste Oh mio dio no Oh Si una volta fatto questo Che bisogna fa? Ci ha salvato si Bisogna attivarlo da qualche parte? Oh O sta più sopra qualcosa? Scappa Stai seguendo te Ce l'ha con te me sa Dai Ce l'ha con te Ce l'ha con te Io sono salito Non ci arriva qua su Forse dobbiamo tornare su Su Si probabile Vado su E qui non mi sembra che ci siano vie d'uscita A parte questa Esatto Ha funzionato? Si qua è Si qua si è inondato Possiamo proseguire Benissimo Si è più alta adesso l'acqua Aspetta Ti conto Oh no aspetta Ho fatto una stronzata Ti puoi avvicinare un attimo qua? Però puoi notare e cliccare Non so se posso salire sul gommone Mentre sto in acqua così Io l'ho fatto Sto cantando note a caso Se vado qui Crepiamo Lo faccio? No Fermati Ale Fermati Ale Fermati Ok il fondo c'è Non voglio sapere se mi avvicino al bordo Però se mi prende la corrente La corrente Sicuro lo fa Nel gioco abbiamo capito che negli ultimi update è diventato molto intelligente Ci sono molti meno bad game design E Uh Ah Ale Mi sembra di vedere un ponte Sai benissimo cosa fare Tenere premuto shift Mentre ci cammini sopra Questo secondo me crolla a prescindere No no zitto Tu cammina normalmente e non lo fa Chiudo gli occhi Ale attento Rollone Comunque si secondo me la sotto è morte istantanea Le valvole hanno fatto qualcosa di utile o Ah no Ci sono anche di qua Oh Ok le ho girate tutte e otto velocemente E' successo qualcosa? No Qui c'è un piccolo corridoio in cima Che poi ricongiunge Che poi siamo in due Possiamo citare il sistema Perché non lo stiamo facendo? Perché stiamo anche esplorando un pochettino Oh ciao Sono io tranquillo Non ti sei cagato addosso? No Il senso di quest'area? Lo sto cercando di capire E mi buttassi? No Non si può fare troppo basso il soffitto La voglia che ho di premere shift Me l'ha appeso male Io sono morto Come? Stavo salendo sul ponte e non mi ci ha fatto salire Stavo camminando sul lato Sappiamo quindi che se caschi qui sotto Crepi Prova a correre sul ponte Vediamo se colla veramente Oh mio dio Ma io mi sto vedendo Che c'è tutto il terzo braccio Corri sul ponte Vediamo se veramente cade Sì Sì cade Ma tu ho visto il corpo per sé Che ha detto? Ho visto il tuo corpo sotto la piscina Questo diventa lo screenshot del video Vai dall'altro lato Ok dammi un secondo Non cominciare a girare ancora Non posso correre qua Va va Poi chi è che ha costruito un ponte del genere là? Ok dimmi quando ci sei? Al mio tre corri e tutte E girale tutte Ok Uno Due Quattro Che fretta Ok ha funzionato Oh mio dio Con l'animazione Con l'animazione più bella del mondo Quindi adesso posso cascare qua Wuhuu Sono vivo Sì Potevano farlo andare un po' più veloce Cos'è qua? Stiamo andando finalmente in paradiso? Madonna, magari Anche se non ce lo meritiamo No, no, scherzavo Io almeno penso non me lo merito proprio Ah, qua è contaminata l'acqua Bello, la contaminazione si contiene Che strano Non so sali dal lato sbagliato Che palle Ora Altre valvole Posso trasferirmi qui? Sì, facciamo l'accampamento Dormiamo sul duro delle piastrelle Che ricordiamo essere indistruttibili Almeno nella versione wikidot Se non mi ricordo male erano indistruttibili Possono clippare tra Ste colonne un po' oblique E il soffitto? Boh Ti giuro si può Io non trovo niente Dov'è? Ale, 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 ale Vieni qua da me Vieni qua da me Fantastico Ho visto un po' di Ho visto qualcosa che si illuminava Mi ero sbagliato Scivoli d'acqua nelle backrooms Si torna giù Ok, queste sono le dark pool rooms Almeno la versione scura Di nuovo Stesso puzzle di prima Da qui esce Oh mio dio c'è un parkour Parkour Nelle mie backrooms Ah io Ah qui c'è Qui c'è invece Qui c'è No, 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 no Esci, esci Non ho fatto veramente una cosa No C'è una doccia Possiamo vivere qua È intelligente mettere un parkour in stile Minecraft Con una fisica di movimento del genere Non funziona neanche il gioco stesso Un po' è Ale Questo posto è vivibile Abbiamo le docce Una doccia vera Sì Ok, basta Va bene Ha già morto dall'inizio Ah Grazie Leonardo Che muori per me Rifallirò il parkour sicuramente Non ci provare Che adesso vado avanti senza di te Oh no Ora Non consumare la stamina Che se adesso spunta quello È un casino Cosa? Le torce Ah, giusto Vabbè Prima non c'erano davvero servite Neanche adesso Più o meno Un'altra manovella Poi potevamo pure evitare il parkour Se la zona è connessa come prima Potevamo entrare da là Sono cascato in un buchetto di acqua E non riesco più a salire È così che devo morire Ah, eccolo, eccolo Ho trovato Mi giro un secondo per vedere mia madre Che mi porta l'acqua E appare il clamp Ma io non ho parole Mi sono un po' di tunnel qua Dammi un secondo Comunque ne avevo bisogno Grazie mamma Io ho soltanto del tè Che mi mette ancora più sese Dopo che lo finisco di bere Ale? Ale? Era il water Sì? Perché sono in bagno In questo momento Non fate domande Oddio Scappa, 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 scappa Scappa Scappa, o te magna Scappa, o te magna Stai ancora Correndo Corri, 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 corri Corri sopra le scale Non ti può raggiungere lì Ok, non lo fa Infatti, meno male Quante ne mancano? Boh Non possiamo vederlo No, ci sono Aspetta, posso tornare un attimo? Se nell'area là con l'erba Non ce n'era una Allora dovremmo Aspetta con calma Perché tanto in teoria Se torno sopra Poi ti fa pure tornare a te Sì? Ma dove ci faceva vedere? Cioè dove doveva succedere la magia? Di là Ha fatto qualcosa? Sì? Si è abbassato Si è svuotato tutto Sì Infatti Ok, abbiamo già fatto facilmente Ok Cioè, non mi lamento E ho una torcia Si prospetta un livello abbastanza facile Fino ad ora Ce la puoi fare Ce la puoi fare Sali sulla barca O ti lascio qui Porco schifo Maledizione Colonne del cacchio Gameplay degenerato Poi dicono La serie migliore di YouTube Italia Di questo gioco E che è un onore Fanculo Lion La faccia Da Torniamo serio Ma è una mia impressione Oppure non siamo sull'acqua Oh signore Hai detto prima Niente più bad game design Questa è una screenshot Oh mio dio Dobbiamo ancora far risalire l'acqua Ok, quindi abbiamo capito che la barca non è programmata per stare sull'acqua Ma solo per navigare a una certa elevazione Esatto No, di nuovo Possiamo pure dividerci perché abbiamo capito che girare insieme non è utile Perché il mostro non lo possiamo affrontare Se stiamo insieme ci trova ci piglia entrambi allo stesso tempo C'è un altro parkour e stavolta più facile Ok Nella stanza dei funghi non c'è una manovella Una valvola su tre In teoria sono tre Sì In che direzione eri andato non ho visto Aspetta, aspetta per pigliare Uff Ok Sì, era di là Io vado di qua allora Sì, bravo, bravo, bravo Vedo l'ultima Tu hai tirato valvole? Ho tirato una Che allora forse è questa No Non è stata tirata Ce ne sono di più allora Questa è un'altra L'hai già fatta? No Ne ho fatta un'altra Manca una valvola Ancora una No Ma porco schifo Qua sei andato? Mi ha preso a padella Sì, sono andato tutto a sinistra Ti ha preso a padellati Mi sono trovata Da quanto stiamo registrando, scusa? 48 minuti 38 minuti Ah, questa l'hai già fatta tu Fuck L'ho trovata? No Che palla Palla? Hai una palla sola te? Seppure fosse Sto scherzando? No, spero io di qua sono già stato Torna indietro Pure qua? Ci sono già andato di qua Ci sono già andato Torna indietro Ecco sinistra Oh No, non di qua C'era una valvola dietro di te Cosa? Oh mio Dio No, 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 no A me c'è un inganno? Oh mio Dio Voglio scoprirlo onestamente Anche io Tanto abbiamo capito Che ci salva l'arma Abbiamo capito Che era una trappola davvero Non è neanche più divertente Ok, andiamo qua Sono curioso Una fre... Ta, tara, 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 flecci Di qua Na, na, na Wait Perché mi ricorda la prima zona dove siamo scesi? Sembra la prima zona effettivamente Per sicurezza andiamo Magari c'è davvero un'altra valvola Ce ne sono sei Questi palesemente vengono dall'immagine del livello 130 Sì c'era davvero l'altra valvola Ok, ora dovremmo aver finito Hanno messe sei Bastardi C'è il mostro Ci facciamo prendere subito Torniamo all'inizio velocemente No, no Diamoci un po' di sfida in più Esatto Quella è la strategia dei vigliacchi Quando ti perdi nella caverna su Minecraft Ma ti ricordi che hai il Keep Inventory Cioè Va bello rovinata perché non so parlare Dobbiamo davvero fare il giro per buttarci Dio no Uffa Cheating Hai citato Incredibile Aspetta che devo un attimo venergli a fiato Dov'è la canoa? Là Il Il canotto Non vedo più il canotto Era qua No vabbè Non credo che sia Dovemmo andare avanti così forse Comunque possiamo salire sulla scaletta qua Mega bug Oh T'ha fatto anche a te all'improvviso Oh Cos'è? Siamo all'acqua bug No way Yeah Di là non vado perché Tanto sicura zona inutile Ti scommetto Ma che figata sto posto Hanno preso spunto davvero dai footage Quelli Pizzarri Che vedi gli agenti della Cinch fare Sì Sì Grazie a tutti.